Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora avremo proprio fra pochissimo il ministro dell'interno Angelina Alfano e anche segretario del nuovo centrodestra che sarà nostro ospite e naturalmente è un ospite importante in una giornata che segue, perché lo avete seguito dai telegiornali, anche dal nostro telegiornale di oggi, dalla Rassegna Stampa, segue delle cronache che raccontano di scontri, di tensione, dello sciopero sociale alcuni giornali come Il Fatto Quotidiano titolano 25 piazze contro Renzi, in realtà è stata una giornata sicuramente impegnativa quella di ieri anche con il caso Torsapienza e i fischi al sindaco di Roma e vedremo che cosa dirà il ministro dell'interno su questo. Intanto vi presento gli altri ospiti che sono già qui con noi, allora Fabio Martini della Stampa, buongiorno, Claudia Fusani di Huffington Post dell'Unità in questo momento di chiusura dell'Unità in prestito all'Huffington Post, Carlo Panella giornalista di Carlo Panella e anche però collaboratore del Foglio. E appunto il ministro l'abbiamo già annunciato ed è questione di pochissimo, però intanto diciamo che c'è, non so se la regia poi riesce a farlo vedere, il tweet mattutino di Matteo Renzi che è arrivato al G20 di Brisbane, i grandi paesi del mondo condividono un'idea di fondo, l'austerità non basta, servono investimenti e riforme. Eccolo qui, l'ha twittato dal G20. Queste sono le prime notizie e vorrei intanto però cominciare con Fabio Martini su un commento sulla giornata di ieri. Intanto la parola scontro sociale, cioè sciopero sociale, scontro sociale sì, ma sciopero sociale è nuova? Sì è nuova e sarà interessante capire dal ministro dell'interno che cosa pensi di questo fenomeno nuovo che è in corso, nel senso che la crisi finanziaria che si è manifestata, ha iniziato a manifestarsi sette anni fa, diciamo quasi per miracolo e che poi si è trasformata in crisi dell'economia reale, quasi per miracolo non ha mai rimasto in un alveo di disagio sociale, di forte, come dire, disagio nelle famiglie, ma non è mai sfociata in episodi di ordine pubblico negativi. Ecco, ora il quadro sta cambiando, nelle ultime due settimane si sono, come dire, moltiplicati episodi anche di scontro e allora sarebbe interessante capire dal ministro se lui non creda che il protagonismo vigoroso del presidente del Consiglio e la contemporanea assenza di una dialettica tradizionale sinistra-destra non finiscano per polarizzare su un unico soggetto sia i consensi tanti, ma ora anche i dissensi. Da questo punto di vista sarebbe interessante capire dal ministro che valutazione si fa al viminale di un fenomeno nuovo, cioè l'attenzione che gruppi molto radicali dedicano ad un solo partito, al Partito Democratico. Questo è un fenomeno nuovo che nel passato ha avuto qualche manifestazione nei confronti delle sezioni del PSI di Craxi o di quelle di Forza Italia, ma che ora negli ultimi giorni ha avuto una, come dire, una recrudescenza. Allora, ministro, intanto benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Subito, la domanda era già pronta per lei. Ho sentito e mi permetto di dire al dottor Martini che insomma non mi pare che il dissenso si polarizzi solo su Renzi. Anch'io, insomma, ho... Rivendica la quota per il dissenso. Per il dissenso, devo dire, anch'io mi difendo bene. Una quota di insulti, diciamo, che non manca mai. Una quota di insulti quotidiana non mi manca mai, quindi mi permetto proprio di fare solo questo piccolo emendamento alla sua considerazione. No, innanzitutto, proprio per quel che diceva Martini Pocanzi, mi sia permesso a inizio di trasmissione di ringraziare davvero con tutto il cuore le forze dell'ordine. Ieri abbiamo avuto in mezza Italia, cioè in 45 province, manifestazioni, abbiamo avuto 7.000 uomini impegnati, oltre 70.000 manifestanti in giro per l'Italia, 105 manifestazioni differenti, l'ordine pubblico ha retto bene, 15 nostri uomini sono stati feriti, 15 poliziotti sono stati feriti. È quello che le rimprovera libero, ministro, dice il governo, la polizia ha detto lasciatevi picchiare. Sì, immagini se noi diciamo ai poliziotti lasciatevi picchiare. Noi diciamo ai poliziotti e a tutte le forze dell'ordine, grazie di tutto quello che fate, l'uso della forza è l'estrema razio, noi dobbiamo assicurare la libera manifestazione del pensiero, dobbiamo assicurare che le manifestazioni si svolgano pacificamente e dunque oggi noi siamo a dire ai poliziotti grazie di quello che avete fatto. Le regole di ingaggio fanno sì che i nostri poliziotti abbiano tutta la strumentazione necessaria, adesso stiamo ampliando la sperimentazione che riguarda la videocamera addosso ai poliziotti, dico poliziotti per dire le forze dell'ordine in questo caso ovviamente. Anche lo spray al peperoncino, cioè tante cose... La situazione alle polemiche, poi dopo torniamo alla domanda di Martini però perché abbiamo fatto una deviazione però... Dopo gli scontri sulle acciaierie di Terni noi abbiamo assunto due decisioni, entrambe già operative, quindi non chiacchiere ma fatti. La prima è stata quella di provare a organizzare una governance preventiva dei cortei, ovviamente nei limiti del possibile. Come funziona l'ordine pubblico? Vi è spesso un imprevisto di piazza rispetto all'organizzazione che fanno i sindacati o gli organizzatori dei cortei, poi c'è qualcosa che scappa di mano in piazza. Ridurre al minimo l'imprevisto con una governance preventiva dei cortei è un qualcosa che a livello locale di questura, insomma di Digos si faceva spesso e si è sempre fatta. Noi abbiamo rafforzato questo elemento e giorno 12 scorso, quindi quattro giorni fa, ho visto la Camusso, ho visto la CIS, il barbagallo della Will, il rappresentante dell'UGL, abbiamo fatto la prima riunione. La seconda conseguenza di quegli atti è stata l'accelerazione delle nuove regolamentazioni per l'ingaggio, delle nuove regole di ingaggio che sono concordate anche con i rappresentanti delle forze dell'ordine, quindi non sono imposte violentemente alla polizia e prevedono anche l'uso di strumenti diversi, ripeto, le videocamere, spray al peperoncino. Ecco, queste sono cose che hanno un duplice obiettivo, garantire lo svolgimento pacifico dei cortei e assicurare libertà ai cittadini che non partecipano, che hanno il diritto di muoversi nella propria città, che hanno il diritto di non vedere sfasciate le vetrine del centro e che hanno... E questo è chiaro. E poi c'è un altro diritto, il diritto alla incolumità dei nostri poliziotti, delle donne, degli uomini, delle forze dell'ordine, dei carabinieri, della guardia di finanza impegnati in ordine pubblico. Allora, torniamo alla domanda di Martini, però che era una domanda politica e importante. Lei che... se la ricorda? Sì, sì. No, prego. Allora, la mia considerazione è questa. Il fatto non nuovo nella storia italiana, ma nuovo per questi ultimi 20 anni, rispetto a questi ultimi 20 anni, è che lo scontro è molto, molto evidente tra due sinistre. Noi abbiamo provato con il governo Berlusconi a modificare l'articolo 18 e Cofferati ha portato in piazza milioni di persone. Noi abbiamo provato a fare delle scelte e Cofferati ha portato in piazza milioni di persone. E questo vuol dire che comunque gli scontri... No. D'Alema ha provato a cambiare il mercato del lavoro nel periodo in cui è stato a Palazzo Chigi, ma quando ha impattato duro con la CGL ha fatto marcia indietro. Questa volta noi non siamo in presenza di un classico scontro destra-sinistra, centro-destra-centro-sinistra, ma siamo in presenza di uno scontro molto forte, molto acceso, molto violento tra una sinistra che è conservatrice sul mercato del lavoro ed un leader del PD sostenuto da noi, e noi pensiamo che se non ci fossimo noi non potrebbe neanche provarci, che vuole invece cambiare le regole del mercato del lavoro. Questo scontro tra due sinistre è l'elemento essenziale di novità rispetto a quello che c'è stato fin qui. Cioè fin qui c'è stato uno scontro destra-sinistra classico. Chi governa governa, chi è all'opposizione all'opposizione, qui invece c'è un pezzo della costituency classica del principale partito della sinistra, ossia la CGL, e dentro la CGL addirittura la FIOM che a tratti come ieri si riunificano rispetto alle divergenze classiche anche al loro interno, mi riferisco a Landiri Camusso, CGL e FIOM, per andare contro questo governo, che non ha un leader destrozzo, ma il leader è il principale protagonista della sinistra, forse anche europea. Ieri Renzi era in Romania, avete visto un bel cartello davanti a lui con la scritta Partito Socialista rumeno, non so come si chiama il Partito Socialista là in Romania, è andato a fare campagna elettorale per il leader socialista di sinistra rumeno, quindi lui è uno di sinistra. Renzi. Cioè il leader uno delle... Ma è di una sinistra che intende cambiare alcuni elementi di conservatorismo classico della sinistra. Allora questo scontro tra le due sinistre... Lei lo chiamerebbe regolamento dei conti come fa oggi un esponente della CISL, dice un regolamento di conti a sinistra. Guardi, sono siciliano, o sono siciliano, ho fatto le leggi contro la mafia, conosco codici e linguaggi, mai userei quell'espressione, ma perché nel mio codice semantico che alberga nel mio cervello, quella roba lì non si dice se non in particolari occasioni. Però scontro sì, questo è... Allora io le dico, se mi dà altri 30 secondi... Prima che Claudia Fusani... Sì, sì, ma tanto credo che la trasmissione non sarà brevissima, quindi avremo modo di... No, no, però... Le dico quello che penso su quel che mi ha appena chiesto, cioè cosa sta accadendo se non è un regolamento dei conti. Tutte le sinistre europee, quelle che poi sono state al governo anche a lungo, mi riferisco alla sinistra laburista inglese, mi riferisco alla socialdemocrazia tedesca, mi riferisco anche al Partito Popolare Spagnolo, hanno avuto dei momenti di rottura culturale in cui hanno ripensato il senso stesso dell'essere sinistra. Questo è accaduto nelle grandi sinistre europee. In Italia, a causa di quello che è successo nei primi anni 90, si sono trovati con una magistratura che di fatto è diventata un riferimento ideale per la sinistra italiana e con un mercato del lavoro che è diventato il totem da difendere o il tabù da abbattere per le forze avversarie della sinistra, alle quali io ho sempre aderito e nelle quali ancora oggi mi riconosco, cioè in un'area alternativa alla sinistra. In Parlamento, e voi commentatori l'avete sottovalutato questo aspetto perché, come dire, non avete dato grande enfasi, in diretta televisiva e suppongo senza preavviso, quando Renzi ha fatto il discorso dei mille giorni ha detto due cose, sono pronto a fare la riforma del mercato del lavoro anche per decreto. Guardate, secondo argomento, che io non credo negli avvisi di garanzia citofonati e non credo neanche che un avviso di garanzia equivalga a condanna. Ha detto queste due cose qui. Questi due elementi, cioè la virata garantista e la virata riformatrice sul mercato del lavoro, hanno fatto sì che la sinistra italiana abbia subito in qualche modo, in diretta tv e senza preavviso, una riforma radicale su due pilastri, su due elementi, cioè il giustizialismo in materia di giustizia appunto e il conservatorismo in mercato del lavoro, in materia di mercato del lavoro, che mai e poi mai nei vent'anni precedenti erano stati affrontati così di petto. Questo è avvenuto in questi mesi e non è stato valutato a fondo neanche dai commentatori perché si è ridotto tutto al dibattituccio così. E' chiaro che c'è un'opposizione a tutto questo. Io però, visto che stiamo su... Cioè, pensa che nella sinistra italiana siano tutti contenti del fatto che Renzi abbia assunto una posizione iper riformatrice sul mercato del lavoro e garantista sul tema della giustizia. Ovviamente nella sinistra italiana vi è molto più di un residuato che difende quei due totem. Allora, intanto per stare a un altro protagonista in questi giorni che appartiene all'area del Partito Democratico andiamo con un piccolissimo contributo a Tor Sapienza dove ieri è stato fischiato il sindaco di Roma del Partito Democratico, Ignazio Marino, come tutti sanno, e che è un focolaio che pone una questione molto importante per la quale ci interessa sentire al Ministro. Sentiamo Marino e i fischi. Io sono venuto soprattutto perché mi sento vicino alle persone che vivono qua e mi sento offeso quando persone come Alessandro o Maglio vengono chiamate dai media razzisti o addirittura criminali. Sono persone come noi, sono persone che hanno diritto a cercare la felicità con le proprie famiglie nel proprio quartiere. Abbiamo individuato alcuni punti e io ringrazio loro che rappresentando il quartiere hanno detto che sarebbero felici di vedere i loro figli crescere con bambini che vengono da altri paesi del mondo, ma vogliono avere un quartiere tranquillo e un centro d'accoglienza che principalmente accolga donne e bambini. Allora, Ministro Alfano, lei in un'intervista che hai rilasciato oggi al Messaggero dice se la prende un po' con i sindaci, evitino miscele esplosive, insomma è... Il tema è molto semplice, la scelta dei luoghi dove mettere i centri, i centri di accoglienza, riguarda i sindaci e secondo me ci vorrebbe attenzione, saggezza, lungimiranza, cioè ci vorrebbe senso pratico per dire che se già c'è un campo rom, forse non puoi aggiungere anche un centro per immigrati se poi quel quartiere è pure degradato, seppure quel quartiere è carente di servizi, perché poi si creano le miscele esplosive. Tutto qui non c'è nessun attacco specifico, violento, diretto, io mi rendo conto della difficoltà dell'amministrazione. Guardi, noi viviamo un tempo in cui la ragionevolezza e il buonsenso sono merce avariata, per cui tu devi inseguire l'emozione del momento ed io sono tra quelli che invece fa una battaglia per affermare il buonsenso, è una battaglia difficile, quindi io non sono contro il sindaco Marino, non dico che è facile fare il sindaco di Roma, non dico che è facile recuperare le periferie degradate, dico semplicemente che noi abbiamo la necessità, se abbiamo 80 persone di cui la metà minori, di non inserirle in un contesto in cui ci sono già i Rom e in cui gli abitanti del quartiere dove vengono inseriti questi migranti che poi sono richiedenti asilo, è già difficile che gli abitanti accettino la condizione di degrado del quartiere nel quale vivono, prima ancora di accettare che ci siano i Rom o i migranti. E poi c'è un altro aspetto, io penso che una cattiva gestione del fenomeno dell'immigrazione produca razzismo. Il popolo italiano, gli italiani, i cittadini italiani non sono razzisti, sono stanchi, sono stanchi perché la crisi economica li sta affiaccandoli affiaccati, sono stanchi perché non ne possono più anche di vedere magari, mentre loro soffrono, che ci sono politici che si mettono dei soldi in tasca, non ne possono più di vedere le loro periferie degradate e per di più avvertono a quel punto come una punizione che un pezzo dei servizi a loro destinati, che sono pochi e mal serviti appunto, vengano destinati ai migranti. Quindi questo tema... Prima di spostarci sul tema dell'immigrazione, diciamo, dell'analisi... No, 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 lo so che... Purtroppo stiamo parlando esattamente di questo. E quindi quando io dico i sindaci stiano più attenti, intendo esattamente dire, prima di mettere 80 persone in un posto, guardate come vivono i cittadini di quel posto, vedete che sensibilità hanno e che difficoltà hanno e vedete pure se ci sono anche altri elementi di gravame, di peso, su quel quartiere derivante da altri tipi di presenze straniere come quelle dei Rom. Claudia Fusani voleva fare una domanda, la vedo lì. Con lo sguardo mi guarda... Diciamo che quello che ha detto è quasi tutto giusto, anche secondo me, quindi già questo è importante. E questa è la notizia. È assolutamente la notizia. Però sicuramente, certamente è vero che i sindaci devono fare attenzione a dove mettono queste persone. E quindi, perché chiunque sia andato là, in quel posto, dalla periferia est a Roma, si renderà conto, e lì faccio una domanda al Ministro, cioè tutto lo spaccio che c'è in quella zona è un problema di chi? Del sindaco? No, delle forze dell'ordine. Però va davanti. Quindi è vero che c'è un problema, è vero che è stato sbagliato mettere in quel posto un centro con 80 persone di cui 40 minori, certamente è vero, però lì c'è un problema di ordine pubblico e di sicurezza che è a prescindere da queste 80 persone che sono arrivate. Dunque lì è un problema che riguarda la sicurezza e la gestione, quindi il sindaco, ma anche la questura e quindi il Ministro dell'Interno. Però io volevo chiedere questo, voi avete fatto giustamente, io penso che voi in quanto Ministero abbiate fatto assolutamente una cosa impossibile e bellissima in questo anno perché sono date 150 mila persone, siete riusciti in qualche modo a prenderle, trovare un tetto, una casa, qualcuno è ripartito, molti sono già ripartiti per fortuna diciamo, ne sono rimaste 61 mila di queste persone, quindi questi profughi 61 mila. Dov'è che c'è un errore fondamentale che avete compiuto secondo me anche voi in quanto il Ministero? Quando è stato deciso dove mettere queste persone, al solito c'è stato chi è stato più furbo degli altri e quindi le regioni del nord, io qui ho tutti i numeri, cioè di questi 61 mila, 61, 65 mila, anche al 31 ottobre parlo di profughi che erano in Italia, oltre il 50%, no, molti di più erano tutte le regioni dal Lazio in giù, quindi Lazio, Sicilia, la Sicilia ha il 14% di queste presenze. Perché invece, siccome il punto è prendere piccoli gruppi, sentiamo la risposta? Ringrazio la dottoressa Fusani non solo per la domanda ma per il riconoscimento che non è a me, ma al Ministero dell'Interno e al Sistema dei Prefetti e alla Rete Territoriale. Assolutamente. Stiamo di accoglienza, devo dire, vabbè, un piccolo miracolo. Tema. Noi abbiamo avuto gli sbarchi per oltre il 90% in Sicilia, per cui colgo l'occasione per ringraziare i siciliani che hanno avuto una pazienza. Ma sta diventando... No, 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 va bene. Perché in Lombardia ce ne sono così pochi? Perché in Veneto, 1816? No, 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 non voglio... Però questa è trasmissione nella quale si viene proprio anche per poter spiegare bene le cose. Sì, sì. Quindi io ringrazio perché oltre il 90% sono andati in Sicilia. Quindi questo 14.000 fa riferimento all'accoglienza. Ma pensi un po' agli sbarchi. Oltre il 90% totale degli sbarchi ovviamente è avvenuto in Sicilia. Ma perché non è stato possibile disorganizzare le sbarchi? Stiamo alla domanda anche perché dobbiamo purtroppo andare a pubblicare. Stiamo andando alla soluzione. Siccome è cambiata la profilatura dei migranti, cioè ai tempi di Maroni, ministro dell'interno, venivano i migranti economici che cercavano lavoro. E dunque la risposta era dammi il contratto di lavoro, se no non ti faccio entrare. Se ora invece arrivano quelli che dicono oh, lì mi stanno ammazzando, lì mi stanno perseguitando perché sono cristiano, perché sono siriano, perché sono... Bene, ti chiedo asilo politico secondo le regole del diritto internazionale che che ne pensi Salvini? Non si possono lasciare morire là dentro nel Mediterraneo. Mi dispiace per Salvini. Se era bravo nei cinque anni precedenti che ha fatto l'eurodeputato, andava a Bruxelles e si batteva e portava risultati. Non ha portato nessun risultato. Mi dispiace per lui, ma non si possono lasciare morire dentro il mare. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Per risolvere il problema di cui parlava la Fusani. Abbiamo fatto l'accordo con le regioni per una equa ripartizione, ma contemporaneamente, come dice nel sistema di protezione richiedenti asilo, la lettera R, richiedenti, non tutti quelli che arrivano qui poi hanno realmente il diritto di essere asilati, di avere rifugio politico. E allora stiamo accelerando tutte le procedure in modo tale che quelli che hanno diritto vengono accolti secondo un piano di riparto che riequilibri quello che diceva. E quelli che non hanno diritto? Quelli che non hanno diritto, rimpatriati, perché noi non ne possiamo più di avere migranti che non abbiano diritto. E il secondo obiettivo, migranti che non abbiano diritto all'accoglienza in quanto titolari del diritto d'asilo, della protezione umanitaria, perché non sono proprio... Ma il secondo goal che dobbiamo fare, dopo che il primo è stato fare mettere le navi dell'Europa e gli elicotteri nel Mediterraneo, ed è un risultato del semestre che non viene sufficientemente valorizzato anche dai mass media. Il secondo goal qual è? Tutta sta roba che stiamo facendo noi, cioè della risposta sì o no al diritto d'asilo, che cos'è che noi dobbiamo ottenere, secondo goal, i campi profughi in Africa? Cioè noi dobbiamo riuscire a convincere l'Europa, a mettere le tende in Africa, e già ci sono alcuni progetti in questo senso. Questo ce lo dice Carlo Panella. No, a mettere le tende in Africa? No, no, ci si riesce. Guardi, si può fare sicuramente, perché noi non dobbiamo vendere pentole, dobbiamo fare esattamente quello che è giusto fare, che è possibile fare. Allora, dobbiamo montare le tende in Africa, come Europa, fare dire di sì o di no, per vedere chi ha diritto all'asilo e chi no, e quelli che hanno diritto all'asilo devono essere equamente ripartiti in tutti i paesi europei, cioè nei vari paesi europei. Sai quanti sono su 28 paesi dell'Europa? 5 o 6 paesi che si caricano tutti i migranti, e gli altri 22 stanno a guardare, questa roba qui non funziona. E ancora adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità. No, non solo noi, cioè la Germania e la Svezia ne hanno e come? Pubblicità. Allora, Carlo Panella, quello che si è visto, e poi naturalmente chiediamo al Ministro e tu, ma quello che si è visto a Torzapienza è stata, come hanno scritto diversi giornali ieri, anche una resa, l'idea che sulla spinta di una protesta, anche di una certa dose di violenza, e noi però ci sia stato lo sgombero deciso dal Comune, ma insomma può essere un effetto domino, è stata una scelta anche politicamente sbagliata? Tanto per cominciare, la mia valutazione è che quello che è successo a Torzapienza è piccola cosa, enfatizzata in una maniera enorme dai media, ma è piccola cosa, rispetto a quello che succede in tutto il mondo. non in Europa, in tutto il mondo, in America, pensiamo a quello che è successo a Norfolk, pensiamo a quello che è successo in Francia, quello che è successo in Germania. La novità è che questa volta non si è potuto dire i razzisti, Salvini, Borghezio, Raleighi, eccetera. La cosa che ha impressionato molto noi giornalisti, siamo gli unici che del Paese non capiscono nulla, è il fatto che evidentemente fosse un movimento popolare, spontaneo, dal basso. Sì, siamo noi che stiamo avvelenando con delle visioni assolutamente parziali quello che succede. Abbiamo avuto, e questo è l'elemento interessante, una rivolta, molto pacifica peraltro, con pochissimi elementi di violenza, una rivolta popolare contro un fenomeno che è doppio, il degrado del quartiere, che è palese, conseguenza della crisi, e questa difficoltà a integrare, o comunque a ospitare gli emigrati. Si possono fare delle cose sul terreno del buonsenso, ad esempio con delle consultazioni, con il funzionamento effettivo delle strutture, i municipi, e via dicendo, si possono amministrare meglio le città, ma morta lì, insomma Tor Sapienza mi pare poco interessante, molto più interessante la parte precedente del nostro dibattito, cioè il fatto che va fatto un passo avanti rispetto a quello che hanno detto Martini e Alfano, cioè non soltanto qui stiamo assistendo a un fenomeno unico al mondo, cioè che la contestazione del governo... Però ti fermo perché su quello poi, siccome voglio far sentire anche Landini ad Alfano, proprio su questo tema, invece vorrei chiedere al Ministro, il caso Tor Sapienza, è una... ha ragione Panella che dice che in realtà è una piccola cosa, è una grande cosa, lei dal Viminale ha sofferto, come dire, nel vedere che si cedeva a una... perché si è letto anche di un malumore del Viminale rispetto alla scelta di effettuare lo sgombero perlomeno dei ragazzi. Ma si è letto come spesso accade su un solo giornale che ha voluto dare un'interpretazione su altri giornali, quindi secondo lei ha fatto bene Marino? Ma guardi, non c'era alternativa, stiamo parlando dei minori, quindi io non ideologizzerei la scelta del trasferimento, non c'è un dato ideologico, se lì ci sono dei minori e a seguito delle proteste su cui abbiamo già fatto l'analisi, vengono rotte le finestre, i vetri, diventa abbastanza inagibile o comunque difficilmente agibile, tu chi sposti per primo? Gli adulti o i ragazzi? Sposti prima i ragazzi che non sono stati deportati chissà dove, sono stati messi in un altro quartiere di Roma dove c'era un locale più agibile. Non è una resa questa, secondo lei? Seguendo il costume o lo sport di alcuni bisogna fare diventare due gocce di latte una tazza di panna montata, quel trasferimento è stato derivante da ragioni puramente logistiche, anche perché spostarle da un posto a un altro non è che abbia significato chissà quale scelta ideologica o con quali riflessioni alle spalle, sono io stesso a contestare che in un quartiere degradato si mettano altri migranti. Però onestà vuole che si dica che quando c'è stato il trasferimento non è stato derivante da ragioni ideologiche, ma molto pratiche. Il locale era inagibile, c'erano decine di minori, quindi i minori sono stati spostati da un'altra parte, tutto qui. Ma Marino è diventato il capo espiatorio? Non è per questo che c'è stato questo sgombero, eh? Cioè, lì c'è stato un sgombero perché se continuavano a rimanere 80 persone sarebbe continuata quel tipo di protesta che, anche se è una piccola cosa, comunque per noi in Italia è una cosa importante. Certo, mi immagino che in Francia e a Parigi dove sono stati fatti incendi e roghi, chiaramente, però per noi in Italia è stata una cosa importante. Più catto perché si aggiunge ad altri episodi, diciamo, a storie di questo genere a Milano, la questione delle catture. Sono fisiologici. Scusate, fisiologici. Voi, io credo che avendo voi qui il Ministro dell'Interno vogliate sapere la verità. Poi, se vogliamo dire le cose, per carità, quelle più di moda, quelle più... No, no, no. Le chiediamo su questa. Le chiediamo su questa. Le chiediamo su questa. Dovevate spostati. Non è questione di finestre rotte. Non ce l'ho con la Fusani. Io vi dico la verità. Poi i commenti spettano a voi, giornalisti. La verità è che sono stati spostati perché c'erano le finestre rotte e quindi non potevano stare lì. Il punto essenziale è che noi abbiamo una realtà in Italia che è drammatica presso la quale mi sono recato dopo che sono successi gli scontri che è Castelvolturno. Noi non possiamo trasformare delle periferie in tante Castelvolturno. Noi non possiamo creare una miscela tra immigrati e residenti che i residenti non possono reggere. Ed è il motivo per cui noi dobbiamo organizzare i campi profughi in Africa. Qui non ci devono proprio arrivare se non hanno già il sì dato in Africa ed è la ragione per la quale noi dobbiamo chiedere ai sindaci metteteci un pochettino di riflessione ulteriore prima di scegliere dove mandare anche poche decine di migranti perché qui non è che stiamo parlando di 2000 persone. Signori stiamo parlando di 80 persone di cui circa una parte specifica sono già stati spostati. Per cui noi non stiamo parlando di una roba insostenibile in valore assoluto. Stiamo parlando però di un disagio sociale di periferie senza luce senza gas con grandi difficoltà che già soffrono in proprio che vedono i Rom che circolano lì e per di più vedono i migranti. Allora questa scelta deve essere fatta con intelligenza e concretezza dai sindaci. A noi compete in Europa dire cara Europa hai fatto già una scelta di spendere dei soldi e di venire nel Mediterraneo devi fare la seconda perché non è possibile che Germania Svezia Italia Francia e pochi altri paesi Mi pare che l'Europa ha il potere negoziale dell'Italia e noi non sia fortissimo No guardi io le devo dire anche su questo le devo dire con grande praticità che sono presidente per conto dell'Italia del semestre nel settore interni e in questi sei mesi noi abbiamo ottenuto questo grande risultato un grande risultato lo abbiamo ottenuto che è quello che navi e elicotteri arrivano questo ce l'ha detto ma lo ripeto perché lei ha appena detto che non abbiamo potere negoziale questo risultato non ce n'è tanto in generale allargavo adesso però non è guardi c'è una bella alleanza che è quella di grandi paesi che hanno addosso il carico e sono Germania Italia Svezia Francia Inghilterra in buona misura che hanno un carico non è vero questo l'accoglienza tocca tutta l'Italia scusate no guardi no dottoressa io voglio fare polemica ma voglio cogliere l'occasione però io cercavo di tenere un po' in ordine il dibattito per dire tutta la verità noi abbiamo l'accoglienza di quelli che sbarcono lì quelli che dai Balcani arrivano in Germania quelli che arrivano dall'est quelli che arrivano per altre vie attraverso camion nel nord Europa in valore assoluto come numero come cifra assoluta sono più di quelli che sono in Italia noi ne abbiamo 63 mila non 61 mila in accoglienza però ora in Germania ne hanno di più allora torno alla sostanza questa alleanza che si può determinare tra i grandi paesi che hanno il carico maggiore non funziona questa alleanza si può no ci si sta Angelino ci si sta cominciando a lavorare adesso sì ma non funziona non funziona per la distribuzione del carico dei migranti però Panella è un esperto non lo so dammi retta dammi retta allora è ovvio che con uno spirito europeista uno dice l'Europa deve fare l'Europa non lo fa questo è il problema signori a livello mondiale dobbiamo prendere atto che le istituzioni internazionali a partire dall'ONU per arrivare alla Nato e alla catena non funzionano non sanno decidere le crisi non le sanno decidere allora questa posizione questa posizione che è una posizione giusta e l'abbiamo vista anche diciamo le difficoltà che hai avuto tu e che ha l'Italia a fare in modo che questo scandalo dei morti nel canale di Sicilia venga considerato un problema europeo l'Europa non funziona allora partiamo dai tentativi di curare il malato perfettamente d'accordo sul fatto che l'unica cosa che si può fare per il fenomeno dell'immigrazione clandestina è quella di andare nei campi profughi mettere degli uffici che verifichino lì se hai diritto o meno all'asilo se tu hai diritto all'asilo ti conviene prendere l'aereo in business class in business class paghi meno di quanto tu non paghi lo scafista che ti fa morire nel Mediterraneo e quindi farlo però con un problema che va detto subito non si può fare invidia da dove passano tu hai detto che era una piccola cosa ma non è tanto una piccola cosa quella che è successa che sta succedendo no guarda quelle continueranno no queste cose continueranno il fatto che ci sarà siccome qui abbiamo il ministro cioè chi ha poi il potere esecutivo rispetto a queste vicende io vorrei non fare non me ne prega niente del passato scordammi il suo passato vediamo cosa possiamo fare per risolverlo questa cosa che ha detto il ministro di mettere le tende nei campi è l'unica cosa che si può fare per cercare di ridurre anche i ragazzini che stanno a tua sapese ed è un elemento della nostra analisi però questa cosa qui lasciami dire questa cosa qui la puoi fare solo tu Italia esattamente come noi abbiamo fatto Mare Nostrum da soli sia chiaro che il governo italiano per cercare di evitare che ci siano le tue sapienze cioè che i ragazzini non stiano dentro quel benedetto edificio perché l'unico problema è questo di curare la malattia e non soltanto curare il malato è quello di mettere i campi di questa cosa le tende nei campi che non si possono mettere in Libia però si possono mettere in Giordania e in Turchia questa cosa qui però va fatta dall'Italia da sola cioè o noi prendiamo l'iniziativa prendendo i fondi magari della cooperazione non so che abbiamo spostando i fondi e mandiamo i nostri funzionari in ambito Nato con le nostre associazioni a fare questo screening degli emigrati che richiedono asilo in loco oppure se noi aspettiamo che lo faccia l'ONU la Nato l'Ocse e la Croce Nostra non verrà fatto mai questo è un problema di iniziativa politica è inutile aspettare di allargare l'Europa perché rispetto all'Europa c'è una solitudine nel frattempo ci ha raggiunto Francesco Verderami del Correa della Sera buongiorno benvenuto e credo che Francesco Verderami abbia qualche domanda da fare a Angelino Alfano su questo caso perché l'impressione che si è avuta anche ci sono stati una serie di articoli non so poi se tu condividi questa tipo è che alla fine ci sia stata comunque un'assenza della politica al di là del fatto che è andato Borghezio Giorgia Meloni o chi cavalca un certo tipo di tematiche in realtà né a Torzapienza né in altri luoghi dove ci sono stati episodi non so anche a Milano in realtà la politica non è che si è vista tanto addirittura Lucia Annunziata ha scritto un pezzo ieri molto citato e come si dice ha ricliccato nel quale si diceva alla fine questo governo ha paura di sporcarsi le scarpe non so se ha la stessa impressione non sporcare sempre o a parte il fatto che al ministro dell'interno le scarpe si deve sporcare sempre perché ogni volta che succede qualcosa i cocci sono suoi inevitabilmente sono suoi i cocci quando per esempio le due sinistre si scontrano quando il presidente del consiglio fa salire la tensione con la CGL e poi si crea qualche altra cosa naturalmente che non è da scrivere al presidente del consiglio si scarica anche sul ministro dell'interno e su questo punto vorrei che si sollevasse un velo di ipocrisia si paga anche i cocci di un disastro di politica estera dell'occidente se noi facciamo andiamo sull'analisi del mondo no 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 facciamo finta di niente ma quando il ministro parla dei campi profughi parla di come dire spostare l'accoglienza nell'Africa mediterranea quando si parla di pattugliamenti o anche di bloccare il traffico dei migranti gestito da questi tassisti assassini si dimentica che dopo qualche anno di politica estera obamiana quella sulla primavera araba siamo di fronte a un fallimento si dimentica per esempio di dire che la politica estera praticata dall'allora presidente francese però questo lo possiamo fare in un dibattito di grandi analisi internazionali no 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 il problema poi si riverbera anche sul ministro dell'interno se non va all'origine Alessandra no no se non possiamo fare una politica la politica per torsapienza è andare in Turchia perfetto no allora se posso dire invece scusa grazie il problema allora è questo abbiamo un problema di politica estera grossissima il fallimento della come dire dell'appeasement nella zona dell'Africa Mediterranea e nella zona del Medio Oriente e poi il ministro dell'interno raccoglie i cocci di questa vicenda perché la politica italiana può fare poco o niente rispetto a questi fenomeni internazionali diciamoci la verità poi i soldi dove sono perché questo è anche il punto i soldi dove sono per per l'accoglienza i soldi dove sono per la gestione di queste cose i soldi dove sono per i comuni e le amministrazioni che devono gestire anche questi flussi quindi tutta questa roba qui non volevo fare un analisi sui mali del mondo volevo semplicemente dire che gli ultimi anni l'Occidente ha fatto una politica nella zona del Mediterraneo disastrosa ne raccogliamo i frutti con la Libia destabilizzata la Libia destabilizzata e noi dalla Libia con la quale avevamo fatto degli accordi i ministri degli interni italiani avevano fatto gli accordi morale della favola la Libia è persa infatti i giornali non si occupano più del fatto che la Libia è persa e che è in mano a organizzazioni semi o quasi terroristiche il punto è questo e si scarica tutto sulla politica interna italiana è vero posso dire una cosa breve volevo fare volevo che rispondesse veramente il ministro integrare la domanda ma un secondo i campi in Libia l'unico esperimento che c'è stato in questo senso io me li ricordo forse anche voi Panza attuale capo della polizia all'epoca si occupava dell'immigrazione i campi in Libia sono stati una cosa un'esperienza devastante devastante e poi secondo devastante perché tu a chi affidi questi campi in Africa a chi li affidi a gente del posto a te stesso con i militari e dove li fai adesso i campi in Turchia e in Giordania dove ci sono 6 milioni di propri ministro però mi dispiace di fare la parte perché secondo me sono state dette delle cose molto utili per le analisi anche ad integrazione di quello che lei ci aveva detto quindi mi dispiace di fare la parte di quella che riporta tutto nella dimensione locale però credo che ci sia una dimensione locale non romana locale nel senso nazionale importante e politica alla quale cerco di tornare le facevo questa domanda facevo questa domanda osservazione che forse potrà apparire banale però che lei ritiene che ci sia stata c'è una latitanza della politica che viene in tutte queste circostanze come dire addebitata a Matteo Renzi però al governo di cui lei fa parte da un ministro ovviamente di di grande peso e tra l'altro di ruolo operativo rispetto a queste questioni lei ritiene che sia infondata questa critica l'idea che appunto il governo non si voglia sporcare le scarpe che alla fine si c'è andato Marino è stato fischiato però è l'unico capro espiatorio che si è trovato di una situazione che naturalmente Carlo Panella riconduce a una dimensione ridotta ma che comunque ha un peso per chi ci abita per il potenziale anche di contagio rispetto ad altre realtà quindi è un Renzi che non si sporca le scarpe neanche lei le rispondo rispondo alla domanda però poi mi permetterà magari dopo rispondo alla sua domanda però dopo mi permetterà di fare alcune considerazioni su ciò che ha detto Verderami e anche su ciò che ha detto la Fusani allora la risposta è questa i sindaci sono eletti direttamente dal popolo i sindaci sono eletti dai cittadini delle loro comunità che mettono la croce sul loro nome e poi hanno tante attese quindi è evidente che se le cose vanno bene a Roma il merito è di Marino se vanno male la colpa è di Marino se no sarebbe troppo comoda è ovvio mi sembra fin troppo ovvio al limite Marino è stato rimproverato perché è arrivato lì dopo un po' di giorni ma questo attiene al suo rapporto con la città nel quale io non entro il punto essenziale ed io notoriamente non sono marxista e non sono marxiano è l'analisi economica della realtà noi con il governo stiamo combattendo la crisi perché sappiamo che migliorando le condizioni economiche del paese l'impatto è ovunque ma se è vero questo è vero anche quello che diceva Verderami poco fa cioè lo dico in termini calcistici il Viminale il ministero dell'interno è come il portiere di una squadra di calcio se funziona il filtro al centrocampo se funziona la difesa il portiere rimane inoperoso ma se il filtro al centrocampo non funziona se non funziona la difesa in porta arrivano un sacco di palloni e allora cosa si verifica che se l'occidente sbaglia in Libia Libia diventa una roba ingestibile tutti i profughi partono da lì poi chi ci deve badare il ministero dell'interno se ci sono i licenziamenti all'asta di Terni e questi vengono a protestare a Roma e mentre loro protestano in piazza indipendenza ce ne sono altri 300 sotto della Jabil di Marcianise e quelli vogliono andare lì chi paga il conto il ministero dell'interno se c'è un problema di degrado delle periferie sociali e poi nel frattempo ci sono i Rom e poi nel frattempo ci sono gli immigrati e i cittadini si arrabbiano perché già loro sono arrabbiatissimi perché non ci sono i servizi chi lo paga il conto la polizia e il ministero dell'interno allora in porta arrivano tanti palloni perché ci sono altre cose che non funzionano prima e questo è il senso di una considerazione di Verderami che io condivido quindi la politica altro che non è latitante se si sta facendo una politica economica per fare ripartire il paese abbassando l'IRAP alle imprese se si sta facendo una politica economica di dare 80 euro per sostenere i consumi se si sta facendo e questo è merito molto nostro una politica a favore della famiglia per dare mezzo miliardo a chi fa figli è perché un paese un popolo come quello italiano che non fa figli è inutile che immagina di contrastare l'immigrazione con natalità italiana a zero o noi facciamo figli noi italiani oppure faremo la parte di quelli che vogliono fermare il mare mettendo le mani così e allora l'obiettivo deve essere quello di rimuovere le condizioni di questo disagio di questa difficoltà sociale e come lo si fa? Lo si fa partendo da una politica economica seria e facendosi che l'ordine pubblico e la sicurezza facciano percepire l'Italia come un paese sicuro nel quale vivere da parte degli italiani anche l'azione che noi stiamo facendo con gli sms che può sembrare una roba minimalista noi abbiamo attivato in tutta Italia dei servizi per segnalare lo spaccio di droga direttamente con il telefonino in modo tale che con il telefonino ci possano essere segnalati i casi di spaccio davanti le scuole i casi di bullismo cioè noi dobbiamo andare sempre di più a una partecipazione sulla sicurezza da parte dei cittadini e penso che da questo punto di vista le cose stiano funzionando l'elemento essenziale oggi riparto da ciò che avevo detto all'inizio quando ho cominciato a parlare è che si sta verificando una cosa del tutto nuova o meglio o meglio che non si verificava da alcuni decenni non nuova nella storia d'Italia ma che non si verificava da alcuni decenni cioè uno scontro tra due sinistre su una questione fondamentale il lavoro e questo scontro questo scontro ha una ricaduta che può anche essere in ordine pubblico posso chiederle una cosa alla luce delle sue parole poi non lo so mi piacerebbe sentire anche cosa ne pensa Fabio Martini di questo visto che era partito da lui anche questa riflessione ma non è che sta dicendo che alla fine è un po' il ministero dell'interno il capo espiatorio diciamo così io facevo la domanda su Marino ma invece tutto sommato a Renzi va bene che ci sia una figura che non è del partito democratico non va bene forse Martini a chi ha fatto la domanda io stavo giustamente no prego questa era una malizia per dire una poltrona scomoda anche per tanti casi che abbiamo visto insomma in questo periodo e poi di cui poi riparliamo magari ci ha mai pensato lei che forse era meglio non essere visto che lei è il leader del nuovo centrodestra non essere ministro dell'interno guardi io ci penso tutti i giorni ed io che non sono uno che specificamente ce l'ha con i giornalisti ci penso a quel che dice lei tutte le mattine perché vedo tanti giornalisti renziani quando leggo la rassegna stampa che siccome sono molto molto appiattiti a volte inginocchiati su Renzi ma devono fare capire ai loro lettori che sono autonomi per dimostrare che non sono governativi al massimo attaccano me ma chi è intelligente sa bene che attaccano me per fare finta di essere autonomi e indipendenti rispetto all'inginocchiatoio renziano al quale hanno già fatto atto di devozione quindi che ci sia da parte di alcuni giornalisti ovviamente potrei fare nomi e cognomi avrei voglia di fare tanti dibattiti con loro ma potrei fare un lungo elenco io mi metto in coda per una replica dopo no 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 adesso c'è Martini finisce il ministro Martini poi la replica la Fusani ogni tanto attacca Renzi quindi devo dire che non fa parte di questo elenco il punto di fondo il punto di fondo è che il ministero dell'interno è strutturalmente un ministero esposto in questo momento in cui oggettivamente non c'è nessun gruppo editoriale contro il governo caso unico nella storia italiana e quando c'è qualcuno che deve fare vedere che c'è un refolo di autonomia di indipendenza della libera stampa attacca a me gli viene facile però siccome io non solo ho le spalle larghe ma ho buona coscienza e cose fatte che posso dire e pensa che sia compatibile con il ruolo di segretario insomma ovviamente quella poltrona lì ecco questa io non voglio come dire fare lo psicologo però se questo discorso della compatibilità con il ruolo di segretario di leader del partito vale per lei non lo facevo perché viene dall'Italia vale per il ministro dell'interno perché dovrebbe non valere per il presidente del consiglio che rappresenta l'unità della nazione all'estero dovrebbe non valere le faccio una battuta per dire vede che l'estero non sono dei giornalisti che dicevano ma glielo chiedevo perché viene dal suo partito a volte questa osservazione ieri il nostro presidente del consiglio apro una parentesi e ha fatto bene tre punti esclamativi chiusa parentesi dal suo punto di vista ha fatto bene tre punti esclamativi il nostro di tutti gli italiani è andato in Romania a fare campagna elettorale per il leader del partito socialista di sinistra della Romania ma è il presidente di tutti gli italiani per lui non si dice che è anche il segretario del PD per me sì ma siccome io ripeto non è che abbia diciamo ho le spalle larghe e mi difendo bene da solo però il riflesso dei giornalisti dice ma scusa tu fai il ministro dell'interno no no le ripeto era semplicemente perché viene dal suo partito questa osservazione però devo dare la pubblicità non viene da me tu fai il ministro dell'interno e sei leader del tuo partito invece no era perché lei dice si scarica tutto sul ministero dell'interno siamo tutti d'accordo perché si scarica tutto sul ministero dell'interno diceva ci fermiamo per la pubblicità siamo in ritardissimo ma sui licenziamenti qualcosa è cambiato ma guardi continuano a dirci che il discriminatorio rimane e ci mancherebbe come dire altro e l'idea che invece il licenziamento economico non abbia mai il reintegro che il disciplinare sia determinato solo da certi casi significa che non avremo l'inversione dell'onere della prova cioè non sarà il datore di lavoro che dovrà dimostrare che è un licenziamento giustificato e questo vuol dire far venire meno la deterrenza dell'articolo 18 ma guardi che chi ha deciso di dividere questo paese è il governo è il governo noi vogliamo unire questo paese è il governo che rifiuta di confrontarsi con il sindacato è il governo che ha deciso di riattaccare l'articolo 18 quando il problema è il lavoro quando il problema è l'integrazione quando il problema è combattere le ingiustizie allora questa piazza chiede di essere ascoltata di essere rispettata e se il governo non vuole attivare lo scontro sociale riapra il confronto ascolti il sindacato questo paese si cambia con il lavoro non contro il lavoro l'apertura di ieri come la considerate sull'articolo 18 e sul Jobs Act? a me non pare un'apertura su alcuni punti mi sembra quasi una presa in giro mi sembra più un accordo fatto da qualche parlamentare per difendere il suo posto che non per tutelare i diritti l'articolo 18 va esteso non va modificato va esteso e il demanzionamento va impedito quella cosa lì apre ai licenziamenti questa è la strada e semplicemente con un po' di soldi le imprese possano estenderlo e questa cosa rischia di valere non solo per i licenziamenti individuali ma anche per i licenziamenti collettivi noi non abbiamo bisogno di quella roba lì noi abbiamo bisogno di estendere la cassa integrazione abbiamo bisogno di far ripartire gli investimenti abbiamo bisogno di incentivare i contratti di solidarietà abbiamo bisogno di ridurre gli orari e il governo anziché andare a fare le assemblee con i padroni nelle fabbriche ruote vada e ascolti i lavoratori che si stanno facendo il masso per difendere il lavoro e questo paese diceva ministro questa che era in piazza era un pezzo e parlo deliberatamente al passato e non per un riflesso da slang era un pezzo della constituency classica del PD cioè quella che era in piazza era un pezzo della classica constituency del PD faccio presente che è il leader del PD che guida il governo e che quindi questa piazza non è una piazza destra contro sinistra o sinistra contro destra è una piazza sinistra contro sinistra io condivido fino in fondo le ragioni del governo perché uno dei motivi principali per cui noi siamo al governo è cambiare la riforma del mercato del lavoro quindi ogni volta che loro dicono che il governo sbaglia cambiando il mercato del lavoro e cancellando l'articolo 18 io penso cavolo come ho fatto bene a stare al governo il tema è un altro il tema è che nel nostro paese si sta riproponendo dopo alcuni decenni un conflitto a sinistra e noi stiamo dalla parte di chi vuole riformare quello lì è un assetto conservatore rispetto al mercato del lavoro che in un tempo di crisi occupazionale drammatico come quello che viviamo non è la soluzione ma l'aggravamento del problema Fabio Martini sull'articolo 18 da mesi si confrontano due posizioni come dire con argomentazioni degne di attenzione comunque che possono una volta apparire ideologiche ma che hanno anche una loro concretezza io vorrei richiamare l'attenzione del ministro alla sua valutazione su una sequenza di per sé abbastanza eloquente allora in estate il presidente del consiglio fa capire di essere favorevole all'abolizione dell'articolo 18 il 3 settembre di un'intervista molto importante al Sole 24 Ore afferma questo principio in modo molto forte le posso chiedere Martini di retrodatare il racconto ad agosto quando io no scuse quando io ho detto si riforma il mercato del lavoro e da sinistra hanno detto che era una butade estiva era un dibattito baldeare addirittura a luglio ministro anche a luglio ci tenevo al pezzo che mi riguarda come soggetto che ha lanciato questo tema nel dibattito e adesso sta andando a compimento ci tenevo diciamo al backstage all'antefatto mi ha spezzato la sequenza comunque va bene quindi sostanzialmente finalmente il 3 settembre questo anelito al cambiamento di Renzi viene sancito in un'intervista molto importante al Sole 24 Ore nel quale lui dice che l'articolo 18 va sostanzialmente no va abolito a quel punto iniziano le resistenze del sindacato e della CGL e il 29 settembre data altrimenti famosa in una direzione del PD c'è un'apertura in un documento a quel punto vi inalberate voi e in Senato quel documento della direzione del PD scompare benissimo dovendo affrontare due giorni fa di nuovo la direzione del PD quelle aperture sui licenziamenti viene riproposta a questo punto ed è finita la sequenza voi denunciate questo zigzag e a questo punto ecco il punto il Presidente del Consiglio vi risponde che il prossimo vertice di maggioranza si svolgerà nell'autunno del 2017 allora le chiedo il protagonismo finora vincente di Renzi non sarebbe più efficace se ci fosse un maggiore rispetto di tutti gli interlocutori sì io la ringrazio davvero per questa domanda noi abbiamo grande rispetto del Presidente del Consiglio e lo dico pubblicamente ci sentiamo molto rispettati dal Presidente del Consiglio potrei fare una sequenza di atti di rispetto e di corretto rapporto con gli alleati noi dei vertici di maggioranza ce ne freghiamo perché i vertici di maggioranza spesso diventano vertici di circostanza piuttosto che di maggioranza mentre a noi interessa la sostanza nella maggioranza e neanche la circostanza ci interessa ci interessa la sostanza allora la sostanza qual è? che noi volevamo la riforma dell'articolo 18 e noi stiamo ottenendo la riforma anzi la cancellazione dell'articolo 18 che il PD ha fatto una direzione nel giorno del compleanno di Berlusconi e di Bersani il 29 di settembre ecco perché diceva giorno altrimenti noto e ha deciso in casa propria quale dovesse essere la linea al Senato come correttamente diceva Martini si è trovato un punto di equilibrio ora Renzi per tenere tutto insieme perché dobbiamo essere politicamente onesti cioè abbiamo un dibattito aperto sulla legge elettorale un altro sul Jobs Act un altro sulla riforma della pubblica amministrazione un altro sulla giustizia cioè stiamo mettendo le mani un po' ovunque su temi delicatissimi per tenere un equilibrio complessivo con quelli della sinistra del suo partito ha detto vi do un ulteriore aiutino sul mercato del lavoro noi che già ci siamo passati e siamo bruciati dal rapporto con la sinistra del PD e siamo bruciati dai tempi della Fornero perché avevamo cominciato bene ed è finita malissimo per colpa della sinistra del PD abbiamo detto oh fermiamoci tutti perché non è che facciamo un altro blef facciamo una roba seria cioè l'articolo 18 se ne deve andare davvero e dobbiamo fare una riforma al mercato del lavoro che non sia un proclama ma sia un fatto di sostanza che aiuta alla luce delle ultime trattative si sente garantito alla luce delle ultime trattative mi sento garantito perché i nostri si sono visti quindi che hanno ragione a ragione Landini e non la minoranza del PD dal loro punto di vista guardi io non sono l'arbitro tra le ragioni altrui io mi faccio i fatti miei dal punto di vista ideale e programmatico a me delle ragioni di Landini e degli altri può anche fregarmene poco a me quello che mi interessa è che si fa quello che noi avevamo proposto quindi disciplinari ci sono ma casi limitatissimi guardi dopo che c'è stato questo can can sul vertice di maggioranza per il quale a me possiamo anche spostare al 2020 un vertice tra amici non c'è bisogno che facciamo quello del 2017 non è che me ripeto me ne freghi un gran che anche perché non è stata una bellissima scena appunto la cosa guardi non era manco sollecitata da noi però il punto fondamentale è uno dopo che c'è stato l'altro ieri questo rischio e questa preoccupazione da parte nostra che tutto si trasformasse nell'ennesimo blef della sinistra abbiamo avuto un incontro tra Sacconi e la De Girolamo per conto nostro e Sacconi è bravissimo con alcuni esponenti del PD hanno trovato un punto effettivo che poi rimanda al fatto che saranno limitatissime le fattispecie di licenziamenti disciplinari che producono la reintegrazione e su questo ci siamo accortati e si andrà avanti ora il punto preciso dell'accordo sarà consolidato in un emendamento però ormai siamo lì abbiamo fatto l'accordo e l'accordo va bene ma non va bene a noi andrà bene per l'occupazione perché non è che noi lo stiamo facendo per un capriccio lo stiamo facendo per favorire le assunzioni da parte degli imprenditori questo è chiaro però c'è Carlo Panella io vorrei cercare di chiudere il cerchio perché è palese a tutti insomma che l'articolo 18 è un pretesto è palese a tutti che è simbolico non è un fatto quindi qualsiasi soluzione ci sia sì nei prossimi mesi avremo su altri terreni probabilmente uno scontro a torto Alfano quando dice dopo alcuni anni no è la prima volta in assoluto che succede che la sinistra riformista non la sinistra extraparlamentare la sinistra di Bertinotti la sinistra comunistica ma che sia uno scontro che vede da una parte gli ex PC perché questa è la verità gli ex PC dentro il partito democratico contro una dirigenza che non è neanche ex democristiana ma che è della Margherita che però non è in grado più per errori propri e per storia del paese di avere un ubiconsystem e che viene rilevato dal sindacato ex comunista CGL FIOM un sindacato peraltro che era minoranza rappresenta la minoranza dei cittadini noi abbiamo un sindacato che fa politica la fa sull'articolo 18 lo farà domani su altri elementi che è contro il governo e questo ed è l'elemento che più mi preoccupa offre per la prima volta quello che non c'è mai stato negli ultimi sette anni offre quel ubiconsystem quell'elemento di catalizzazione di tutte le proteste sociali cioè fino ad oggi tutti ci chiedevamo ma com'è possibile che con questo depoperamento della popolazione la disoccupazione quello che sta succedendo i giovani che non trovano lavoro non ci siano delle manifestazioni corali adesso ci sono perché perché l'ex partito comunista attraverso la sua struttura l'unica che è riuscita a resistere ai frutti della storia che è quella sindacale sta andando contro un governo di sinistra questo elemento è molto pericoloso e qui torno alla specificità del suo del suo ministero se noi andiamo a vedere tolto l'episodio della Tissen che secondo me lui lo negherà è colpa di un funzionario di polizia che non aveva capito quello che succedeva non rispondono perché non può rispondere ma tolto l'episodio della Tissen tutti gli altri episodi di violenza di piazza che noi vediamo che coinvolgono manifestazioni di lavoratori non vedono i lavoratori che vanno contro la polizia ma e questo è il solido cinismo della sinistra ex-staliniana vedono le manifestazioni di lavoratori che ospitano e non li arginano come facevano un tempo i centri sociali e i centri sociali che incominciano a tirare abbiamo visto che incominciano a tirare quando va bene bombolette di vernice sui poliziotti quando va male bombe carta o addirittura fanno l'attacco qui c'è una politica cinica che sta facendo Langhini e Camusso che non funzionerà non per criteri estetici o edici che non funzionerà semplicemente perché non ha una prospettiva è una politica di distruzione e di usuramento del governo e qui chiudo su una cosa perché Renzi non si occupa di queste cose è bellissimo l'articolo annunziato scritto con un italiano fantastico ma la risposta è molto semplice Renzi non si occupa dei problemi in cui non riesce a trovare un'immediata soluzione lui non sa cosa dire sull'alluvione lui non sa cosa dire su torsapienza non sa che cosa dire e qui però si ritorna al discorso che facevamo sulla politica Renzi che non che come dire non si non si impiccia delle cose nelle quali non sa cosa dire non sa cioè se ne ricorda qualcuno le evoca qualche nome uno che ha fatto maligno è il giornalista Marino secondo me il punto essenziale sarà la conclusione di questi provvedimenti provo a riportare dopo le considerazioni secondo me molto opportuna almeno una parte delle cose che ha detto Panella provo a portare a quella lei dice sono opportune lei condivide quest'analisi di Carlo Panella in cui si parla anche di cinismo di una parte cioè lei ci vede del cinismo e ci vede anche del rischio perché poi questo è allo specifico del suo ruolo del rischio proprio di clima guardi io quando quando valuto i comportamenti pubblici prescindo dalla comportamento altrui sul cinismo perché quando parliamo di morti nel Mediterraneo e altro e vedo determinate posizioni io ho i miei valori la mia fede e il mio credo ma poi non faccio il moralista sugli altri non questa però era una valutazione politica quella che faceva Panella cinismo nel senso di errore politico esatto di errore politico non etico è quella sto per fare come valutazione politica Renzi ha chiesto durante la riunione con me e con altri e l'indomani durante la riunione con il presidente Silvio Berlusconi una cosa anche qui eccetto forse Verderami che l'ha ripresa in un suo pezzo di qualche giorno fa è anche qui sottovalutata perché il punto che unisce il documento di maggioranza al documento dell'indomani con Berlusconi le date cioè tutti hanno avuto una convergenza sul fatto che il job act deve entrare con i suoi effetti in vigore dal primo gennaio che le riforme costituzionali devono entrare devono completare il primo giro entro la primavera e che la legge elettorale deve subire un'accelerazione immediata entro Natale deve arrivare a delle conclusioni entro Natale questa cosa qui c'è scritta nel documento firmato con Silvio Berlusconi e nel documento firmato con noi questo è l'elemento essenziale per cui Renzi al di là di intervenire su un argomento o su un altro insieme a noi si è vincolata ad una tabella di marcia molto stringente che vedrete come costringerà il Parlamento a lavorare ed io spero che il Parlamento la faccia di buon grado la risposta sarà nel fare queste cose rapidamente questa è la risposta al problema esattamente è bravissima questo è il concetto essenziale cioè tutto noi ci giochiamo sulle date se rispetto all'agenda che ci siamo dati sembrerà una presa in giro e non è che ci sarà un altro vertice di minoranza di maggioranza dei nazareni e di tutto quel che cavolo vogliamo per affermare che noi ci diamo la proroga noi stessi se viceversa invece il job act si fa e la riforma del mercato del lavoro entra in vigore il primo gennaio quindi noi di fatto dal primo gennaio possiamo dire che non c'è più l'articolo 18 è stato smontato un totem della sinistra ma quello non sarebbe foriero invece di altre tensioni mi faccio a chiudere il raggiamento perché ci tengo se si verificherà tutto questo sa che cosa si verifica che il governo sta mantenendo gli impegni assunti e che tra l'autunno del 2015 quindi fra 12 mesi di questi tempi e la primavera del 16 non sono in grado di calcolare con esattezza i tempi perché dipende dal lavoro parlamentare noi andremo nel nostro paese ad un referendum confermativo di una modifica della forma dello Stato che non c'era mai stata con la cancellazione del Senato e tutto questo e lei immagini un governo che realizza due o tre riforme importanti giustizia scuola pubblica amministrazione e lavoro e che nel frattempo consacra se stesso attraverso un voto popolare che dice ok noi popolo italiano abbiamo condiviso il percorso delle riforme costituzionali che hanno cambiato la carta fondamentale del nostro paese su punti essenziali cioè questa è la sfida di Renzi e del nostro contributo a questo governo se tutto questo si realizzerà il corso delle cose italiane prenderà una direzione se questo non si verificherà non si verificherà e le cose andranno davvero male si porterà però anche nel frattempo sul referendum contro la Fornero proposto da Salvini appoggiato dal Camusso Angelino questo è il tema finito però prenderà senso politico se ci sarà il Giobacco dai e magari invece lo acquista una volta fatto il Giobacco si apre un altro fronte di scontro perché questa battaglia la battaglia tra gli ex comunisti che hanno trovato il loro partito nel sindacato questo è quello che è successo in Italia hanno trovato il loro partito nel sindacato troverà degli altri terreni di scontro o sostanziali ripeto questa scelta della Camusso di votare di appoggiare il referendum contro la Fornero di Salvini cioè della Lega che viene definita xenofoba e racista è l'elemento che ti dice quale sarà l'agenda di dopo domanda scusate posso fare una domanda su questo con sorriso che confesso essere amaro do pienamente ragione a Panella perché dico con sorriso che confesso di essere amaro perché quando mi è stata presentata una mozione di sfiducia da parte di SEL sostenendo tecnicamente che questo governo ha dato l'input ai poliziotti di picchiare la gente di picchiare lavoratori cioè delle follie allo Stato puro e quella mozione di SEL che aveva una sua radice sindacale perché erano collaterali quegli argomenti a quelli che erano alcuni dei sindacati in piazza è stato votato dalla Lega la Lega una mozione contro i poliziotti dopo che Maroni è stato ministro dell'interno per 3-4 anni non è che la cosa mi sorprende quella che dice Panella quando dice che CGL e cosa fanno le cose insieme molto interessante dal punto di vista concettuale che è stato affermato questa mattina dello scontro tra le due sinistre trova dei punti deboli nel senso che anche nella vicenda di Tor Sapienza insomma ci sono stati anche degli infiltrati incappucciati che hanno attaccato le volanti ci sono sempre Fabio sì c'è stata la presenza di esponenti leghisti c'è stata la sede del PD che è stata messa alle fiamme senza fare la retorica a favore della sinistra però diciamo c'è una dialettica nella quale nelle prossime settimane potrebbero come dire partecipare altre parti politiche altri infiltrati altri provocatori da questo punto di vista il Viminale e i servizi hanno dei segnali su possibili come dire peggioramenti della situazione in relazione a provocazioni? secondo me non voglio fare il mediatore tra i due hanno ragione sia Martini che la Martini diceva incappucciati e infiltrati e la Fusani diceva c'è stato anche l'attacco alla sede del Partito Democratico sono vere entrambe le cose ho semplicemente detto questo allora ci sono due elementi il primo io sono stato chiamato in aula ad un question time prima dell'estate in cui mi è stato chiesto a proposito dell'aggressione alle sede del PD e ho risposto pubblicamente in aula così come sto per dire e cioè che l'approccio riformatore del segretario del Partito Democratico che è anche presidente del Consiglio sta esponendo ad una contestazione molto violenta il Partito Democratico questo è un punto già come dire da me certificato in atti parlamentari l'altro elemento è che accade molto spesso e non da ora che nei cortei ci sia il rischio di infiltrazioni di coloro i quali appunto in quanto infiltrati non fanno parte degli organizzatori del corteo del mondo e dei mondi che organizzano quel corteo la nostra attenzione su questo è elevatissima non sono qui in televisione a dire i segnali che abbiamo perché non sarebbe corretto ma la nostra attenzione sulle infiltrazioni nei cortei è assolutamente elevata abbiamo fatto ma perché è un fenomeno mi scusi soltanto per chiarezza lei dice l'attenzione è elevata perché significa che è un fenomeno che è cresciuto rispetto al passato la mancanza del sindacato che fa da mediazione è un problema serio per la piatta anche io mi trovo un po' in imbarazzo perché sto dando troppe volte ragioni alla Fusani quindi evidentemente uno dei due sta sbagliando tutto la cosa che la cosa che voglio dire è che il motivo anche per cui noi abbiamo fatto la governance preventiva dei cortei abbiamo chiamato il sindacato per cui abbiamo apprezzato che il sindacato si sia seduto insieme a noi è proprio perché la premessa di cui parlava la dottoressa Fusani è vera cioè noi non abbiamo nulla da guadagnare da una delegittimazione delle forze sindacali proprio anche in termini di ordine pubblico cioè il nostro interesse istituzionale non elettorale non politico non partitico ma istituzionale è che i sindacati in riferimento ai movimenti di protesta sociali abbiano davvero delle leadership forti ed è la ragione per la quale noi abbiamo le antenne alte dal punto di vista della verifica di possibili infiltrazioni perché a noi il confine tra la manifestazione è anche aspra di contestazione di piazza anche asperrima e la violenza è un confine che segna il diritto che separa il diritto alla manifestazione del pensiero dalla violenza e dalla lesione delle libertà degli altri noi vogliamo rafforzare al massimo il diritto alla protesta anche proprio per la crisi economica perché noi non vogliamo comprimere anzi dobbiamo dare libertà a sfogo il più possibile ed evitare proprio anche comprimendo le infiltrazioni verificando che ci siano che ci siano che non ci siano che infiltrati possano strumentalizzare la legittima sebbene aspra protesta dei sindacati ecco questo è un lavoro per il quale siamo tutti impegnati e poco fa le stavo dicendo che abbiamo convocato pochi giorni fa due giorni fa un comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel quale abbiamo messo proprio una focalizzazione specifica esattamente su questo ci fermiamo per la pubblicità che il mitico servizio d'ordine della CGL non c'è più non è un caso che il mitico servizio d'ordine della CGL che era l'unico che funzionava non c'è più e questo è il problema pubblicità allora intanto dall'Australia arrivano delle dichiarazioni in agenzia del Presidente del Consiglio Renzi che dice a G20 l'Italia è libera svincolata dal passato non ci siamo limitati a cambiare governo ma anche passo così il Premier Matteo Renzi a margine G20 ti ricorda tutte le riforme impostate nell'ultimo anno l'Italia è finalmente libera eccetera eccetera poi le agenzie stanno anche rilanciando la Presidente della Camera Boldrini che oggi sulla stampa dice che la politica latita che pagano gli immigrati e le periferie serve sicurezza per tutti è un'intermediazione no la Boldrini no no la Boldrini no vi do qualche indicazione però c'era Francesco Verderami allora ci sono come delle domande prenotate perché il dibattito lo continuo anche nella pausa pubblicità abbiamo soltanto parlato durante la pubblicità però Francesco Verderami voleva aggiungere qualcosa alle letture che sono state fatte quella mi pare forte che fa dal suo punto di vista ovviamente il Ministro dell'Interno che è anche il segretario del nuovo centrodestra dice è uno lo scontro anche questo clima che c'è si deve molto a una una collisione fra due sinistre che non erano mai entrate in conflitto in questo modo allora Francesco Verderami avevi un passo ulteriore rispetto a questo il punto è questo prima con i colleghi con Fabio Martini e poi con Panella si appunto sostenevano che c'è uno scontro nelle piazze democratico naturalmente tra queste due sinistre adesso questo scontro si riprodurrà nelle urne con il referendum proposto Salvini Camus dalla Lega e da questa strana alleanza e tutto ciò può avere un'unica ricaduta politica che è quello della rottura del partito democratico e della nascita attraverso questi passaggi politici così dirompenti del famoso partito della nazione non dimentichiamoci che qualche giorno fa Civati che di Renzi è molto amico e che conosce Renzi per averlo frequentato ai tempi delle Leopolde quando tutti li prendevamo un po' in giro ora si odiano sono stati amici si si ho capito ma non è questo il punto il punto è che lo conosce bene mi interessa questo dice che Renzi sta puntando a un grande partito di centro e quindi si potrebbe parafrasare dicendo che questo partito della nazione che nasce che sta prendendo forma in questo modo potrebbe essere quel famoso partito di centro che guarda a destra e a sinistra e la domanda allora è ma interessa la merce al presidente del del di NCD una cosa del genere e quanto può interessare sia a lui che per esempio allo stesso Berlusconi gli interessa ma non lo può dire scusa sentiamo ve lo facciamo dire grazie no dico invece dico il contrario altro che io sostengo questo la sinistra è diventata un partito unico fino a immaginabile o possibile scissione perché quando un partito della sinistra supera da solo il 40% è come se fosse diventato un partito coalizione da solo nel campo avverso ci sono il mio partito che è un partito moderno popolare che decide avendo un'identità forte e riconoscibile di collaborare con il PD senza paura sapendo che il PD non è comunista ma c'è uno come Renzi che per ora lo guida vado all'essenziale non faccio troppi fronzoli dopodiché c'è una roba fuori dall'Europa usciamo fuori dall'Europa torniamo alla liretta da svalutare cancelliamo Schengen cioè torniamo al trattato di alta e alle frontiere della seconda guerra mondiale e sta cosa brutta si chiama Salvini in mezzo c'è forza Italia in crescita nei sondaggi Salvini ma guardi allora faccio una parentesi che Salvini cresca nei sondaggi è assolutamente fisiologico come è cresciuta la Le Penne in Francia come crescono movimenti come è successo a Grillo qualche anno l'anno scorso due anni fa Podemos in Spagna Lucchip in Inghilterra è un fatto che si sta verificando in tutta Europa ma a noi tra avere una Lega al 5 al 6 o al 7 che contribuiva al successo del centrodestra e averne una al 12 che lo fa perdere sicuro preferivamo il meccanismo di prima io le faccio già un esempio le grandi regioni del nord la Lega le aveva Lombardia Veneto e Piemonte già ha perso il Piemonte tra poco ci sarà il Veneto vediamo se Salvini farà andare avanti o indietro il centrodestra e la Lega per i governi sul territorio chiudo la parentesi sulla Lega torno al punto quindi noi abbiamo un centrodestra riformatore moderno che provvisoriamente collabora con il PD che non è comunista terrenziano questo sono io cioè noi l'altro che è Salvini che sta facendo una cosa che dice agli italiani sai se torniamo alla liretta da svalutare starete meglio se cancelliamo cioè se rialziamo le frontiere starete meglio se usciamo dall'Europa starete meglio secondo me imbecillità cosmiche però le dice e questa cosa non mi piace in mezzo c'è forza Italia e sta nascendo una sta nascendo un qualcosa di molto sta nascendo un qualcosa di molto importante con la legge elettorale chiede il premio alla lista questo può innescare un sistema politico nuovo dove ci sono due grandi soggetti che si confrontano uno a sinistra e uno a destra quello della sinistra già esiste quello di destra già no perché forse Italia si è rimpicciolita dal 14-15 nei sondaggi allora o si innesca un fatto politico e quindi rispondo alla domanda di Verderami o si innesca un fatto politico a destra che ricompone su base programmatica un unico pilastro che sia una lista unica di centrodestra da contrapporre a Renzi oppure il centrodestra italiano farà la fine dei conservatori inglesi dopo la Thatcher per cui arriva Blair governo vent'anni e hanno dovuto aspettare uno come Cameron vent'anni dopo per tornare al governo dell'ingua quindi lei deve riparlare con Berlusconi la sfida è questa allora in questo momento io credo che i tempi non siano brevi e fortunatamente la legislatura è lunga questo lei lo pensa veramente? sì lo penso veramente perché sto alle dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio sto al nostro programma di governo e sto alle conversazioni private tra me e Renzi che sono frequenti numerose e abbastanza intense dal punto di vista del contenuto per cui io so bene che è interesse dell'Italia ed è interesse del Presidente del Consiglio ed è mi sia permesso di dire per le condizioni attuali del centrodestra anche interesse del centrodestra che il governo vada avanti e poi scusi io qui svelo il segreto di Pulcinella ma quando il principale leader del centrodestra ossia Silvio Berlusconi che è il leader del partito oggi più consistente di centrodestra firma un documento con il Presidente del Consiglio in cui lui leader di opposizione dice che la legislatura deve arrivare al 2018 non è che io sto svelando il segreto di Pulcinella ma se quello dell'opposizione dice che il governo deve arrivare al 2000 quando lei c'è scritto anche altro dice Carlo De Benedetti diceva in un'intervista che potrebbe essere non voglio essere polemico con i giornalisti non voglio fare un dibattito tra me e i giornalisti ma come hanno fatto i tanti commentatori accorti che popolano le prime pagine dei giornali a non sottolineare che è un caso credo unico nella storia del mondo politico e del mondo geografico che il leader dell'opposizione firma non un accordo sulle riforme con il capo del governo perché questo ci sta ed è anche come dire non consueto non consueto ma importante ma che firma pure l'accordo e dice siamo d'intesa che questa legislatura arriva al 2018 in teoria chi fa l'opposizione dovrebbe dire siamo d'accordo sulle riforme ma immediatamente completato il percorso delle riforme immediatamente immediatamente completato il percorso delle riforme una domandina non è normale scrivere si fanno le riforme e si arriva al 2018 perché le riforme le completiamo tra il 2015 e il 2016 a dire dall'opposizione che si arriva al 2018 è un po' che cosa è un po' che cosa è un po' che è un po' che è anche comodo dire così se Berlusconi se nel centro-destra in questi 4 anni 3 anni di legislatura non succede nulla e rimaniamo con Forza Italia a 12-13% voi che fate se non si crea a destra nel centro-destra un partitone una lista una lista che fate noi lavoriamo scusi noi rimanete a 3% scusi sto 3% io non so dove Panella lo legga io ho letto il Corriere il Corriere se non c'è questa roba che fai? un attimo solo innanzitutto noi dalla somma tra noi e l'UDC da tutti i sondaggi due turni e quelli che ho letto sul Corriere consolidato noi siamo intorno al 5% fermo rimanendo questo scusa fermo rimanendo questo e secondo me siamo destinati a crescere perché diciamo cosa è il buon senso fermo rimanendo questo la scommessa non è superare le soglie che abbiamo già superato e la nostra grande vittoria nella legge elettorale non sono state le soglie ma l'introduzione ti propongo al ministero degli esteri ma l'introduzione delle preferenze io che non sono non devo essere diplomatico ma devo essere veritiero ti dico noi lavoreremo per la ricostruzione di un centrodestra competitivo e siamo convinti che il centrodestra è competitivo se non dice che bisogna uscire dall'Europa e dall'Euro ma se dice cose questo è chiaro insomma la legge non la volete tra è una buona risposta ti sto dicendo se non ci riesci se non ci riesci per colpa non tua ma di Berlusconi del centro se rimane una frammentazione cosa che può succedere è successo in Inghilterra e in altre parti in Francia una frammentazione del centrodestra come vediamo oggi perché non per colpa vostra voi avete ma se succede questo voi che fate rispetto al faro elemento di attrazione il partito della nazione che peraltro rompe con la tradizione comunista perché questo è il tema dei prossimi mesi allora io so che ti è difficile rispondere io credo fra l'altro di avere già risposto poi siccome non siamo un telequiz e manco i quiz per entrare alla facoltà di medici non è che devo mettere la X è un problema dei scenari no dico fra tre anni non lo so perché Dio solo sa se avremo la salute fra tre anni e preghiamo il Signore di darcela ma la questione di fondo è l'obiettivo che ciascuno si prefigge e il mio obiettivo è ricostruire un centro-destra e quello è l'obiettivo poi se fra tre anni non sarà possibile che non so Claudia Fusani farà flash l'obiettivo sul quale noi lavoreremo l'obiettivo sul quale noi lavoreremo è quello lì Claudia velocissima allora due cose la prima come può un ministro dell'interno in un paese come questo con la sinistra che si sta spaccando con la destra che non si sa che fine farà con le tensioni sociali che ci sono come può un ministro dell'interno fare anche il segretario di un partito che ha alcuni problemi di identità in questo momento forte prima domanda seconda domanda se il rischio allora sappiamo che per esempio il il consulente Taddei per il lavoro riforma del lavoro e riforme economiche è sotto tutela e non solo lui responsabile economia e lavoro responsabile economia e lavoro responsabile è quello che ha scritto in parte anche il Jobs Act eccetera quindi e non solo lui non solo lui sono tornati sotto tutela quindi a che livello di rischio siamo per questi che una volta non tanto tempo fa erano gli uomini cerniera però la prima domanda è come può un ministro dell'interno in una situazione così complessa conciliare anche il ruolo di segretario del suo partito forse dovrebbe rinunciare a uno dei due io fossi in là rinuncerei a fare il segretario del partito perché il ministro dell'interno è una bellissima sfida la ringrazio per la domanda perché mi dà modo di dire con il dizionario dei sinonimi e non di quello dei contrari quello che ho detto poco fa in questo momento il presidente del consiglio dei ministri è a rappresentare tutti gli italiani quelli di destra e quelli di sinistra al G20 ieri è passato alla Romania a fare campagna elettorale per il suo partito europeo che è il partito socialista non si capisce perché Renzi che fa di più perché fa il presidente del consiglio non fa solo il ministro dell'interno il presidente del consiglio fa tutto quindi questo è un problema delle democrazie moderne ci sono delle leadership che si esprimono anche a corso del governo il suo ruolo è ancora più delicato lei non può essere assente se ci sono delle manifestazioni ma infatti dovrebbe stare fissa al Viminale posso dirle se lei fa un sondaggio al Viminale io credo che ho fatto i commessi tante volte di farsi beccare senza la divisa perché sono arrivato troppo presto al mattino e di avere cambiato due turni perché sono andato troppo tardi la sera stamattina all'alba sono venuto qui adesso sto andando a Napoli a fare insieme al ministro Pinotti una cessione di beni che riguarda l'annunziatella e il demanio poi nel pomeriggio sarò nuovamente a Roma per difendere la famiglia e le politiche a sostegno della famiglia in piazza e pubblicamente e stasera sarò a ritirare un premio per la lotta alla mafia giù in Sicilia quindi questa è la mia giornata di oggi e le assicuro che oggi è sabato e non è un'eccezione quindi al di là del fatto che sono tra i ministri più giovani del governo e sono dotato di sana e robusta costituzione e lavoro molte ore al giorno il punto politico è che nelle democrazie moderne i leader fanno anche le azioni di governo le risulta che il cancelliere Merkel che non è proprio una che ha troppo tempo a disposizione quando la sono andata a trovare mi ha dato appuntamento alla sede della CDU alla sede del suo partito e fa trascorre il cancelliere tedesco un giorno la settimana presso la sede del suo partito il primo ministro spagnolo io questa domanda gliel'ho fatta perché molte delle cose che le sono state contestate in questi mesi nascono proprio da un doppio ruolo guardi le posso dire una cosa è una solenne ma è una solenne ipocrisia è una solenne ipocrisia e le aggiungo anche un altro elemento ora senza volere fare troppi complimenti al mio partito ma noi abbiamo un coordinatore nazionale si chiama Gaetano Quagliariello che fa un lavoro dalla mattina alla sera quindi volersi accanire con me su sto discorso però insomma l'abbiamo già detto insomma è chiaro vado alla seconda domanda sul Taddei allora il caso Taddei il sistema delle scorte è stato più volte nel corso degli anni passati sottoposto a stress da due lati di ipocrisia ce ne sono troppe le avete tolte alle persone sbagliate nessuno fa il rabdomante al Viminale e ci sono sistemi di analisi di previsione di controllo di valutazione che sono sempre stati affinati col tempo e non è il ministro dell'interno in persona a dare le scorte c'è Lucis comunque lei è una tecnica sa tutto però vado al cuore della sua domanda lei ha perfettamente ragione la mia risposta è sì cioè gli uomini cerniera tornano ad essere sotto osservazione che sono tecnici non sono parlamentari tecnici che si occupano e tornano ad essere uomini particolarmente esposti particolarmente esposti proprio perché che magari chi vuole colpire al bivio tra accollarsi il rischio di colpire uno molto tutelato e molto scortato o un suo consigliere tal che il messaggio arrivi forte e chiaro che non è scortato scelgono magari di colpire un consigliere per cui il nostro livello di attenzione e l'input che io ho dato è di attenzione elevatissima questo significa che esistono ancora dei gruppi ma è ovvio che esistono ma perché è un problema drammatico di cui la CGL della Camusso e i cofferati si devono fare carico non perché loro abbiano il minimo rapporto con delle organizzazioni emersive ma devono prendere atto e i landini che io giudico ottima persona deve prendere atto che quando tu fai una battaglia strumentale trasformando un oggetto di normale politica del lavoro in un simbolo come stanno facendo loro con tutt'altro obiettivi e piani poi dopo si crea uno spazio per cui noi abbiamo in questo paese non sono degli uomini scendere Taddei fa parte del lungo elenco di giuslaboristi di esperti del lavoro che sono nel mirino e che sono stati uccisi cioè l'andini non può non tenere conto di questa cosa però volevo le brigate rosse che avevano chiamati uomini scendere però vorrei chiedere al ministro ma lei ci sta dicendo queste organizzazioni eversive sono ancora diciamo esistono in qualche modo ma se non esistono si ricreano se non esistono si ricreano possiamo far rispondere il ministro naturalmente quello che dice lui è un peso diverso Carlo Panella ha anticipato la mia risposta il compito della prevenzione è quello di capire in anticipo se ci sono dei segnali che possono fare immaginare che alcune situazioni possano nuovamente venire a crearsi e questi segnali li avete colto e diciamo che non mancano segnali in questo senso mi sia permesso e non è mia abitudine citare una cosa che ho detto in Parlamento sia nelle informativa sul caso degli scontri di Piazza Indipendenza sia poi durante la mozione che è stata presentata contro di me io ho detto nell'un caso occhio alle parole perché potete raccogliere dei frutti immediati ma possono essere in breve tempo dei frutti avvelenati però che ci sia anche la possibilità di parlare e la seconda volta occhio alle parole ho detto il concetto è questo perché noi corriamo il rischio che una volta ha piccato l'incendio non saranno sufficienti gli estintori di chi lo ha piccato per spegnerlo quindi quello che io raccomando ma lo raccomando davvero è non usare la conflittualità in materia di lavoro non sulla riforma ma le crisi industriali i licenziamenti come terreno di violentissimo scontro politico che può tracimare in alto però ad esempio una dichiarazione di Landini sono destinate anche a fare polemica queste parole che dice perché le ho già dette in Parlamento una dichiarazione di Landini e Camusso una dichiarazione oggi di Landini e Camusso a favore di Taddei e a protezione di Taddei sarebbe assolutamente necessario una dichiarazione una presa d'atto di Landini e Camusso a favore di Taddei il fatto che la CGL metta il suo servizio d'ordine a proteggere Taddei avrebbe un valore simbolico enorme Taddei ma loro tacciolo hanno detto che lo sciopero generale è sbagliato ma appunto per questo ma è la vita di Taddei ma questo è giusto però c'è un'ultimissima cosa che volevo chiedere al Ministro lei è stato contestato in vari casi c'è stato il caso Sociala Baieva c'è stato il caso di quando trattò con le tifoserie con Jenny Acarugna ma io trattò no non lei dire insomma ci fu no ci fu lei non lei non lei non lei sì ma voglio dire ma se non si distrae un secondo ci sono stati casi in cui lei diciamo è stato anche nel caso Sociala Baieva lei dice che non c'era lei disse che non sapeva niente sul caso Sociala Baieva quindi anche lì non era lei però è lei il Ministro dell'Interno allora le chiedo c'è questo tema comunque che in Parlamento le sue ricostruzioni sono state spesso considerate non veritiere come se lei è stato detto al Fano mentre al Parlamento lei sente questo ma scusi è successo a tutti i Ministri degli Interni della Storia Repubblicana come non ho sentito è successo a tutti i Ministri se può rispondere il Ministro Carlo era per lui la domanda è non per me la domanda è successa a tutti i Ministri degli Interni io ne ho conosciuti i Ministri degli Interni parecchi ed è successo a tutti però le sue ricostruzioni sono state particolarmente smontate scusi l'ho capito che lei ci tiene ad affermare questo però come parlo da qui da Ministro dell'Interno quindi vuol dire che il Parlamento maggioritariamente le ha ritenute vere e vedi caso quelli che le hanno ritenute non vere sono i miei avversari politici e come si spiega sta cosa che se ne fregano della verità e dicono a prescindere come direbbe Totò che le cose che ho detto io non sono vere ma pensi che ormai c'è un tale abuso delle emozioni sfiduce individuali per cui la gran parte dei Ministri sono stati sottoposti a emozioni sfiduce individuali quindi poi quelli di cui se ne sono fregati non le hanno fatte manco calendarizzare ma le hanno fatte tutte il punto essenziale è che noi da quando io sono Ministro dell'Interno abbiamo retto con forza grazie alle forze dell'ordine 14.000 e oltre manifestazioni di ordine pubblico nel nostro paese abbiamo arrestato mafiosi salvato vite umane dato accoglienza e garantito libertà di manifestazione questi sono risultati un mestiere alla volta sarebbe meglio dobbiamo concludere grazie ai nostri ospiti grazie ai nostri ospiti buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.